Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un figlio, l'influencer ha annunciato di essere incinta con un post di coppia su Instagram. Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita, scrive, desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certi ad avere accanto un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande, adesso siamo pronti a vivere per te, mamma e papà. Il post è corredato da una serie di foto in cui l'influencer mostra un primo accenno di pancino abbracciata e coccolata dal fidanzato. Numerosi commenti da parte di VIP che hanno voluto congratularsi su Instagram con i futuri genitori, da Cristian Corvaia ad Andrea De Logu, passando per Alessia Marcuzzi, Giulia De Lelis e Giorgia Soleri.